Ciao a tutti, segnali che ti fanno capire che ti stanno mentendo. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al mio nuovo canale Crescità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono i segnali che ti fanno capire che una persona ti sta mentendo? Allora, sono diversi segnali, no, che ti fanno capire questo. Il primo segnale è l'incoerenza tra ciò che una persona afferma e il linguaggio non verbale sottostante. Cioè, una persona può fare un'affermazione, fa un'affermazione, diciamo così, a livello verbale, ma a livello non verbale nega quello che ha affermato a livello non verbale. Ad esempio, potrebbe dire una frase del tipo Cara Laura ti amo tanto e sul Cara Laura ti amo tanto dà un segnale di rifiuto, toccarsi il naso è un segnale di rifiuto. Quindi, il primo forte indizio che una persona ti sta mettendo è una dissonanza tra ciò che afferma a livello verbale e ciò che dice a livello non verbale. A livello non verbale, quindi, devi prestare attenzione ai segnali di rifiuto non verbale, perché sono i segnali di rifiuto che, associate a un'affermazione, vanno a negare quell'affermazione stessa, quindi vanno, da un certo punto di vista, a certificare una menzogna. I segnali di rifiuto sono toccarsi il naso, grattare, andare indietro, grattarsi dietro, guardare un po' dappertutto, soprattutto guardare in alto. Sono tutti questi segnali che ti dicono che, spazzolarsi in questo modo, ti dicono che una persona afferma delle cose, ma in realtà vuole dire esattamente una cosa opposta, vuole dire esattamente l'inverso. Questo è il primo, come dire, modo per capire se una persona ti sta mentendo. Poi, un'altra modalità è fare delle domande, cosiddette domande di processo. Le domande di processo sono, ah, come andate ieri sera a cena con i tuoi amici? Bene, grazie. E io butto gli occhi alla mia destra prima di darti una risposta, il che significa che alla cena con i miei amici non ci sono mai andato, il che non significa che comunque sia andato dall'amante, però sono andato da qualche altra parte, perché il lato destro del nostro corpo, buttare gli occhi dal lato destro, questo per quanto riguarda le persone di stream, per i mancini è invertito il processo, significa accedere a quella parte di cervello, non dei ricordi, ma della costruzione, dell'immaginazione. Quindi mi sto immaginando qualcosa che in realtà non ho vissuto, che in realtà non ho sperimentato e quindi tendo a mentire. Tendo a mentire perché il canale è costruito, diciamo, se sto costruendo qualcosa. Questo è importante ed è un altro segnale molto importante della menzogna. Poi ci sono altre possibilità, anche qua se una persona, diciamo, inizia a sviluppare una sudorazione maggiore, inizia a sviluppare tutta una serie di scarichi di tensione, anche generali, inizia a entrare in tensione, vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non va in quello che sta dicendo. Questo è un po' il poligrafo, no? Il poligrafo è la macchina della verità, la macchina della verità utilizza proprio questi meccanismi per capire se una persona mente o non mente. Utilizza proprio, va a rilevare la conducibilità elettrica, va a rilevare quanto una persona sia, diciamo, in tensione emotiva. Ecco, stati di tensione emotiva indicano che sicuramente sottostante c'è una menzogna. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!